dovremmo essere più bravi a saper dimenticare i fatti luoghi persone circostanze sarebbe tutto più facile tutto diventerebbe improvvisamente leggero intrigante pieno di prospettive mentre attraverso via medina per tornare a casa provo a immaginare un elenco per quanto riguarda la musica lasciare andare tutto da elvis in poi per il cinema lasciare andare quello che è stato proiettato da gioventù bruciata in poi ad eccezione della prima trilogia di guerre stellari e sottolineo guerre stellari non star wars pittura arti figurative teatro fotografia via tutto quello fatto dal primo novecento in poi i futuristi no quelli erano troppo scemi per non ricordarli ma sì un bel zero al zero e palla al centro generalizzato nulla è stato fatto la partita è ancora da giocare in un colpo solo via famiglie parenti gli amici i conoscenti e anche i nemici via tutta la sciagurata gente come la chiama sergio e con loro via anche le donne quelle che volevamo e che non ci hanno mai degnato di uno sguardo quelle che abbiamo avuto ma che sono state delle sviste quelle che avremmo voluto per sempre ma che sono andate via perché la colpa è sempre di entrambi le donne che abbiamo lasciato ma che non lasciamo andare e anche quelle che non abbiamo mai incontrato grazie a tutti